In occasione del Giro Rosa 2020, tappa Nola-Maddaloni, riprendo la salita di San Michele dai ponti della valle fino al santuario di San Michele dove si scollina. Il ponte della valle, il ponte Carlingio, qui inizia la salita forte. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. Il ponte Carlingio, qui inizia la salita di San Michele. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti